Qual è il bilancio delle attività economiche napoletane della provincia di Napoli in queste settimane di zona gialla? Sicuramente è abbastanza disagiante perché non tutte le categorie sono state toccate dall'interesse dei consumatori. C'è questa voglia di consumarsi il caffè, l'aperitivo, seduti a tavolino o pranzare a tavolino, però certamente se questo fa poi creare assembramenti la cosa ci preoccupa non poco. Anche perché sicuramente questa vicenda ci può portare con i dati verso la zona arancione, come già molti stanno annunciando. E questa cosa a noi ci fa tremare i polsi perché dopo tanti mesi senza incassare rischiamo praticamente di fare come gambe e tornare in titolo. Diciamo che lo spettro della Sardegna che da bianca è diventata rossa e oggi è arancio ci fa paura e non poco. Ma tutto viaggia sulla imperizia, sulla irragionevolezza dei cittadini, i quali non hanno capito che devono aspettare che si compia il piano vaccinale. Piano vaccinale che tra parentesi divane sempre comunque abbastanza nebuloso perché tra il nazionale e il territoriale ci sta sempre un gap di 200.000 vaccini per la Campania che noi non abbiamo avuto e che quindi rischia di far rallentare. Ci pigliamo per buona la promessa del Presidente De Luca che è buomo d'onore e quindi noi siamo convinti che lui mantenga la sua parola che per luglio la Campania sarà covid free. Sì, ma certamente la cosa ci preoccupa non poco perché vediamo che i nostri concittadini, soprattutto dell'area di Napoli e provincia ma del resto anche in altre parti della Campania, c'è questa bramosia di sentirsi liberi a botte di spritz, di caffè, di pizzette e di gelati. La libertà non è questa, la libertà è anche rispettare chi magari sta malato oppure chi può essere contagiato dai atteggiamenti sbagliati di gran parte della cittadinanza. Del resto è una cosa questa che non è regionalizzabile perché abbiamo visto come a Milano durante i festeggiamenti dello Scudetto la cosa avveniva uguale e come questa cosa avviene ovunque. I fine settimana sono diventati effettivamente la condanna alla ragionevolezza in tutta Italia. Lei ha citato il pericolo di una nuova zona arancione, sarebbe una brutta notizia sia dal punto di vista sanitario ed economico per quanto riguarda ristori e cassa integrazione cosa ci può dire? Diciamo che noi raccogliamo le notizie alla stampa perché in termini ufficiali sappiamo poco anche sui termini dei valori dal giallo all'arancio. Sulla cassa integrazione, sui costi, sulla mancanza di ristori, sulla mancanza delle spese perché il nostro quadro di battaglia come federazione del commercio è chiedere il ristorno delle spese di fitto e di utenze almeno quelle perché poi per il resto è calma piatta, non si è avuto niente e niente si avrà. È solo un modo per dribblare le esigenze del cittadino. Si diceva che nessuno rimarrà indietro, io penso che invece molti rimarranno indietro. Tenevamo presente che il 20% della platea commerciale artigiana e delle imprese di Napoli e provincia non ha riaperto e non riaprirà più. Cosa ne pensa dell'iniziativa della Regione Campania per le isole Covid-free? Procida ormai è vaccinata quasi totalmente, si sta passando a Capri e Ischia. È d'accordo con la linea del Presidente De Luca? È una cosa più che altro intelligente perché tenendo presente i nostri concorrenti sono la Grecia, la Spagna e tutti quelli che affacciano il bacino del Mediterraneo e comunque i paesi stranieri se loro ripartono prima o hanno zone comunque franche alla Covid perché già vaccinati o fuori pericolo certamente questo pregiudicherà fortissimamente il piacere dei turisti di rimanere o andare in altre zone. Noi di canto per il nostro settore turismo chiediamo a tutti i cittadini italiani di non andare fuori in azione ma di rimanere in Italia, anche perché l'Italia nel bacino del Mediterraneo è quella che ha di più da tutti i punti di vista, culturale, di svago, bellezze naturali, bisogna soltanto scegliere l'opzione. Ora andare per mete migliori non ne troviamo ma sicuramente ci deve stare la volontà di far rimanere i nostri soldi nella nostra nazione perché il settore turismo è tutto l'indotto e fortemente provato da questa vicenda. Se noi siamo provati al 90% il settore del turismo e dell'alberghiero, i piccoli bed and breakfast sono al 200%. A trarre turisti sulle isole in insicurezza può essere poi un volano per intera regione a partire anche dalla città di Napoli? Allora rendiamoci conto che noi teniamo una proposta turistica che va dal Lido di Varcaturo a Capri Positano. Quindi la regione campana, ne parlavamo stamattina proprio con alcuni amici della regione, è l'unica che può fare proposte complessive per ogni segmento di ricchezza economica. Quindi tenere le zone sotto scacco del Covid sarebbe stata una bestiarità e quindi ben venga che le zone a impulso turistico e importanti soprattutto per attrattori dall'estero siano Covid free. Ma io spero e ripeto sono sicuro che il presidente della regione campania Vincenzo De Luca manterrà ciò che ha detto in un'intervista nelle ultime 24 ore che per fine luglio la campania sarà Covid free. Significa che tutto il sistema economico relativo al turismo sarà pronto. Però bisogna fare attenzione a non importare il virus. Un braccio di ferro con il generale Figliolo che è il commissario per l'emergenza Covid. Qui in campagna abbiamo iniziato a vaccinare anche le categorie dei lavoratori a partire dagli operatori del trasporto pubblico. E troppo tardi si è fatto, dico io, perché gli operatori del trasporto pubblico, come pure gli operatori che sono nei grandi depositi, nei grandi magazzini alimentari, tutti quelli che hanno contatto col pubblico. Anche il semplice commerciante, tabaccaio, barista, dovrebbe essere per primo vaccinato. Ma non perché vogliamo dare un favore a una categoria anziché un'altra, ma perché sono quelli che hanno più possibilità di trasmetterlo o riceverlo. E quindi si ritorna da capo a 12. Il piano vaccinale di questa nazione, qual è? I numeri quali sono e poi se tu tieni i vaccini a terra, ma puoi vaccinare tutti a qualsiasi ora H24. La dimostrazione che noi teniamo, ormai il lab più importante, quello là è l'Atitec, e dobbiamo ringraziare il manager lettieri di aver prestato un hangar a disposizione facendo il lab più grande di Italia. Fatto sta che però noi non teniamo tutti i vaccini che servono e quindi che io faccio gli spazi per accogliere chi deve essere vaccinato e non ho i vaccini, e questo dipende, è un problema nazionale, fa ritornare di nuovo la provocazione e lo Sputnik perché non viene autorizzato. Come Presidente della Federazione Commercio Campania, lei ha contatti anche con il settore food, ristorazione, bar, lì ci sono i maggiori problemi specialmente per chi non ha spazi esterni. Ma là si è delineato diciamo uno stracismo commerciale, economico, per chi purtroppo ha delle attività o ha delle attività che non affacciano su strade che consentono lo spazio esterno. E parlo tutta la zona del centro antico che si affacciano i vicoletti, penso alle varie piccole trattorie dei quartieri spagnoli che possono mettere massimo due tavoli. Questa discriminante viene fuori proprio perché non vengono vaccinati gli operatori, perché se i vaccinatori avessero vaccinato gli operatori del commercio e del settore food forse noi non avremmo questo tipo di problema, l'avremmo già superato. Una questione fondamentale su cui porre l'attenzione, l'ha detto anche più volte il presidente De Luca, è il recovery fund. Al sud ci si aspettava una quantità di fondi sicuramente maggiore. Allora il recovery fund è brutalmente un turbo nell'economia del nostro paese. Ma se Draghi, che noi abbiamo accolto con fiducia la sua presidenza e sappiamo che questa cosa ci ha anche cancellato una parte delle diffidenze estere, però ci dispiace pensare che ci siano due pesi e due misure con l'Italia meridionale. L'Italia meridionale è quella che può superare il gap che fino ad oggi abbiamo avuto da 40 anni a questa parte e potrebbe riallinearsi al resto dell'economia del paese e rilanciare fortissimamente il paese. Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di modernizzazione. Noi stessi come commercio no food abbiamo bisogno di un portale unico gestito da noi che ci mette in condizione di avere appeal sul web. Non possiamo legarci a Amazon o altri che sono tra l'altro grandi evasori fiscali e pensano soltanto a loro. Noi abbiamo bisogno di gestire la nostra vita attraverso l'online e l'offline. Se non viaggiano contemporaneamente online e offline insieme nelle nostre mani le città diventeranno un deserto e questa è una cosa importante. Per quanto riguarda il gap strutturale, cioè le infrastrutture di l'Italia meridionale, è sotto gli occhi di tutti. Per andare a Bari ci si impiega tre ore, quando invece per andare da Napoli a Milano ce ne impiega cinque. Perché l'alta velocità forse arriverà fra due o tre anni. Ma pensiamo a cosa significa fare un Napoli-Palermo e cosa significa fare un Palermo-Milano. Significa praticamente avere due modi di viaggiare totalmente differenti. Ebbene questo è intollerabile, è intollerabile a tutti i livelli. Ma noi sappiamo, abbiamo purtroppo dovuto vivere, no? Come Matera è diventata praticamente capillare della cultura e non aveva che il trasporto sul gomma per collegarsi. Una cosa vergognosa. Lei si è vaccinato? Sì, ho fatto la prima vaccinazione, sono un over 60, l'ho fatta domenica mattina alla stazione marittima, con un'attesa di un tre quarti d'ora o un'ora rispetto all'appuntamento dato, dato tutto tranquillamente. Un'assistenza ottima. Ovviamente diciamo, l'unica domanda che faccio all'ASL, se tu ci dai un appuntamento, perché questo appuntamento non viene mantenuto e devi rimanere ancora un'ora tra tante varie file che devi fare? E questa è una domanda che purtroppo non riceverà mai risposta, perché è una cosa nazionale, in tutta Italia succede la stessa cosa, non è che tu ricevi l'appuntamento, vai là, sono sti dieci minuti e hai risolto il problema. Un appello a vaccinarsi per tornare alla normalità, a vivere e a lavorare? Chi ama la libertà, come tanti pensano della libertà, sia lo spritz, non è lo spritz, la libertà. La libertà è vaccinarsi. Se ti vaccini hai praticamente l'accesso a tutto e questo è importante. E poi, dopo essersi vaccinati, bisogna tenere alta la tensione della salvaguardia, quindi mascherine, pulizia, tutte le cose che non abbiamo mai fatto, bisogna sempre farle, perché le varianti di questo Covid sono molteplici e noi saremo costretti a rinnovare la vaccinazione anche nei prossimi due o tre anni, per adeguarci alle varianti che usciranno.